buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video targato altacolo.com se non sei iscritto al canale ti invito a iscriverti per rimanere a giornale sul streaming guide di novità tecnologiche in questo video scopriremo insieme come utilizzare l'applicazione lente di grandimento un'applicazione molto utile per leggere testi scritti in molto piccolo questa funzione utilizzabile anche per visionare degli oggetti da molto vicino chiaramente non a livelli di microscopio però un'applicazione molto utile rispetto all'applicazione fotocamera sostanzialmente e chiaramente utilizzerà le stesse fotocamere presenti su iphone ma è possibile anche gestire una serie di impostazioni che non è possibile gestire al meglio e in modalità veloce direttamente dalla fotocamera sostanzialmente proviamo a vedere questa matita da vicino apriamo la fotocamera questo è un iphone xs max zoom e chiaramente la vedo da molto più vicino se qua la vediamo così qua la vediamo da molto più vicino chiaramente come vedi qua è possibile solo gestire questa serie di funzioni l'applicazione lente di ingrandimento è questa se non la trovi basterà scrivere lente e ti apparirà qua oppure sarà possibile scaricarla dall apple store quindi vai su apple store e qua basterà cliccare e scrivere lente ed è questa la scarichi e la troverai così quindi troverai questa schermata che è già impostata come vedi è già impostata in una certa maniera perché funge appunto lente di ingrandimento io posso ingrandirlo molto di più rispetto alla fotocamera perché andando al massimo nella fotocamera arriva un 10 per e mi fermo qua con la lente di ingrandimento chiaramente siccome le fotocamere sono le stesse la qualità è quella che è ma riesco ingrandire molto di più questo viene bene come un testo è possibile poi regolare anche la luminosità come vedi possibile aggiungere o diminuire la luminosità e questo funziona molto bene con un testo molto piccolo altre funzioni è il contrasto di fatti posso gestire al meglio il contrasto per visionare al meglio alcuni dettagli vediamo il cinturino di apple watch come vedi cerchiamo di metterlo un po più a fuoco però chiaramente la qualità è quella che è comunque le fotocamere sono quelle che sono comunque vediamo molto bene i dettagli e qua è possibile gestire il contrasto qua luminosità come vedi stiamo vedendo queste maglie qua molto più vicine e i dettagli sono veramente molto più definiti è possibile poi qua a cambiare colore in tal caso non ha senso però può essere utile in base all'utilizzo che ne fai e infine attivare il flash quindi da questo risultato arriviamo anche a questo come detto la qualità è quella che è è possibile ulteriormente personalizzare questo menu di fatti basterà cliccare non si vede basterà cliccare su questo pulsante qua e apparirà questo menu nel quale è possibile togliere oppure inserire funzioni con il più come visto aggiungo funzioni quindi ad esempio clicco su fine come vedi la torsa non c'è se voglio aggiungerla clicco su questo pulsante clicco più e per spostarlo basterà cliccare su queste tre linee e spostarlo nella posizione desiderata a questo punto ricoprirà la seconda posizione controlli principali chiaramente non è possibile spostarli però è possibile inserire come vedi un pulsante anche questo pulsante blocca la messa fuoco quindi in tal caso io cosa faccio metto a fuoco e se zoom posso mettere di nuovo a fuoco se clicco invece questo pulsante clicco su dove voglio mettere a fuoco blocca messa a fuoco quindi se clicco voglio che resti lì la messa a fuoco e difatti resterà lì perché la messa a fuoco è bloccata clicco su questo pulsante per togliere il pulsante basterà cliccare qua rimuovi rimuovi e come vedi scompaiono i pulsanti filtri qua è possibile scegliere una serie di filtri che sostanzialmente sono quelli che vedi qua qua vediamo tutti i filtri che è possibile inserire se non vuoi visualizzarli clicca qua filtri basterà disattivarli in questo modo quindi adesso apparirà solo un filtro clicco qua come vedi normale e scala di grigi prima di lasciarci vediamo quest'ultima funzione aumentiamo un po la luminosità è possibile di fatti scattare una foto quindi mi avvicino più che posso voglio scattare questo dettaglio quindi clicco su questo pulsante e come vedi potrò condividere la foto tramite questo pulsante tramite il drop mail oppure salvarlo nelle immagini come vedi è possibile anche regolare lo zoom è possibile visualizzare dettaglio però quando salverò la foto quindi clicco salvo immagine verrà salvata questa foto e non lo zoom che vogliamo se vuoi avere lo zoom basterà fare uno screenshot ce l'abbiamo di fatti se andiamo sulla fotocamera abbiamo l'immagine salvata prima che basterà zoomare arriviamo risultati prima e dopo questo è lo screenshot bene amici anche questo video è concluso se ti è piaciuto aggiungi vi piace iscriviti al canale il prossimo video